Signore e signori, questa ragazza che salutiamo, buongiorno, buongiorno a tutti quanti, mi ha appena comunicato che abbiamo raggiunto il numero di 50 iscritti al primo corso di Tommaso Castellano Academy, precisamente a 25 giorni dal suo annuncio. Faccio questo video per ringraziare ognuno di voi, darò il meglio di me stesso, ognuno dei miei collaboratori tipo Gaio darà il meglio di se stessa e per offrirvi il massimo del servizio. Pensate di esservi iscritti a un corso per diventare gli istruttori cinofili? Non sarà solo questo, sarà molto, molto di più, perché Tommaso Castellano è molto, molto di più, e anche voi che mi seguite. Per tutte quelle persone che non hanno fatto in tempo di iscriversi, non hanno potuto perché abbiamo dato effettivamente poco preavviso, lo sono riuscito ad organizzarsi, a maggio ci sarà la seconda edizione del corso Tommaso Castellano Academy, solo ed esclusivamente se non mi ammazzano prima. Se mi dovessero ammazzare prima, non ci sarà la seconda edizione, ma se ci sarà, quindi siccome anche in quel caso la classe sarà numero chiuso, non rompe e scrivetevi subito. Ciao, grazie mille, veramente, non ci aspettavamo questo successo, abbiamo ricevuto centinaia, centinaia di chiamate, siamo molto felici e vi aspetto il 5 di ottobre. Ciao!